Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa conduttrice e attrice Patrizia Caselli ha sconvolto tutti con una confessione inaspettata. Ha un tumore al terzo stadio al polmone. In un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di essere in cura presso il Policlinico di Milano, dove le hanno già asportato parte del polmone destro e dei linfonodi metastatici. La Caselli ha dichiarato di essere terrorizzata e non pronta a lasciare nulla, soprattutto il suo figlio. Nonostante le speranze del medico di evitare la chemioterapia, ha già iniziato il trattamento per combattere la malattia. Il figlio di Patrizia, Franois, è al suo fianco e le ha promesso di superare insieme questa battaglia. La determinazione e la forza di volontà della Caselli sono ammirabili e tutti sperano che possa uscire vincitrice da questa difficile prova. La notizia del tumore di Patrizia Caselli ha scosso il mondo dello spettacolo e i suoi fan, che ora si stringono tutti intorno a lei con affetto e sostegno. La sua confessione coraggiosa ha fatto emergere la sua vulnerabilità, ma anche la sua determinazione a lottare con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia. La Caselli si sta sottoponendo alla chemioterapia con coraggio e speranza. E tutti augurano che possa presto tornare in salute e continuare a regalare il suo talento al pubblico. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione.